guardando il cielo stellato l'uomo si è sempre chiesto cosa ci fosse in quelle stelle si è fatto sempre domande sull'universo e si è dato risposte variegate per millenni si è pensato che l'esplorazione dei cieli fosse comunque preclusa all'essere umano guardando la luna col linguaggio della poesiella si è accostata all'animo femminile perché perché è bello irraggiungibile se volete ma ci fu un episodio che iniziò a cambiare le cose il primo volo dei fratelli wright eccolo qua questo volo ha acceso le speranze a qualcosa che fino ad allora era riservata solo agli uccelli o alla fantasia degli scrittori di fantascienza ma c'era comunque il limite dell'atmosfera era comunque ancora impensabile superare l'atmosfera fino a quando un russo un astronauta russo nel 1961 il signor Yuri Gagarin che qua vedete nella foto fa un giro intorno alla terra oltre la stratosfera pochi anni dopo la volta degli americani che si spingono ancora più in là come benissimo sapete è il 1969 e Neil Armstrong fa quel piccolo passo per l'uomo e grande passo per l'umanità famosa frase che è rimasta nella storia cioè lo sbarco sulla luna un momento talmente incredibile nella storia degli esseri umani che non stupisce il fatto che ancora oggi ci siano degli scettici in proposito ma per andare così in alto così lontano l'uomo ha prima guardato in basso ha gettato uno sguardo nel profondo prima di andare oltre il limite ha guardato nel nel mondo nascosto che lo circondava in buona sostanza per affrontare il macrocosmo è dovuto passare per il microcosmo qualcuno è sbarcato per primo sull'atomo chi è che per primo ha aperto la strada come ebbe a dire Niels Bohr in una famosa sua frase riferita al suo primo maestro e J.J. Thompson e il 1897 è apparentemente il fenomeno da cui parte Thompson nulla a che fare con quello che sarebbe poi venuto fuori perché il mondo scientifico è di fronte a uno strano fenomeno cioè mettendo un catodo e un anodo dentro un tubo sottovuoto qua c'è una replica di quello che era presumibilmente l'attrezzatura usata da Thompson si genera un misterioso fascio luminoso cioè in pratica mettendo un catodo e un anodo qui si genera un fascio luminoso che va in questa direzione eccolo qua siccome si è appena scoperta l'esistenza dei raggi X lo ha fatto Röntgen nel 1895 quindi due anni prima tra l'altro scoperta per cui riceverà il primo premio Nobel della storia in fisica i raggi X fanno parte dello spettro elettromagnetico come sapete eccoli qua e non fanno parte del campo del visibile quindi parliamo di raggi ad alta frequenza e bassa lunghezza d'onda è stato naturale pensare che questo misterioso fascio di luce fosse una tipica manifestazione di questi raggi ma Thompson non è convinto di questa spiegazione per sua fortuna o meglio per suo merito si trova a capo del più importante laboratorio di fisica dell'Inghilterra e forse d'Europa cioè il famoso Cavendish Laboratory ecco qui una placca in onore proprio di Thompson all'ingresso del laboratorio Cavendish ovviamente vi ricorderà il famoso esperimento grazie al quale possiamo conoscere la costante gravitazione universale no quindi la famosa gamma o g se preferite 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadri su chilogrammi al quadrato ma questa è un'altra storia analizzando questo fenomeno del tubo catodico Thompson ha un'intuizione che lo porta a concepire un esperimento tanto semplice quanto geniale e rendere finalmente reale quell'ipotesi che affondava le radici dai tempi di Leucippo e Democrito ma che non aveva ancora avuto nessun modo di essere provata addirittura forse non si credeva neanche possibile provarla pensate che lo stesso Mendeleev colui che getto le basi della tavola periodica degli elementi neanche fosse davvero convinto che gli atomi esistessero davvero esattamente come la possibilità di sbarcare sulla luna l'esistenza dell'atomo era una chimera ma invece il signor Thompson scopre che l'atomo esiste davvero. Un strano destino questa dell'idea di atomo la particella che doveva essere indivisibile atomos dal greco non divisibile si dimostra esistere davvero ma al contempo si dimostra essere divisibile come dato che viene prima scoperto uno dei suoi componenti fondamentali cioè quella particella elementare che oggi chiamiamo elettrone. Joseph John Thompson che preferirà farsi chiamare JJ nasce il 18 dicembre del 1856 nei pressi di Manchester da un libraio e un insegnante scozzesi essendo di famiglia tutt'altro che facoltosa e nonostante la sua predilezione per lo studio dell'ingegneria che è la facoltà a cui si iscrisse inizialmente indirizza la propria formazione non in base ai gusti ma in base alle borse di studio che vince e quindi finisce per laurearsi in matematica. Tuttavia il suo grande genio intuitivo lo porta in un secondo momento alla fisica come appunto vi ho detto dirigerà il laboratorio Cavendish. Thompson è stato profondamente ammirato dai propri studenti e collaboratori sia per le sue doti intuitive sia per la capacità di risolvere problemi anche in esperimenti che non aveva occasione di vedere ma solo immaginare. Sembra anzi che gli stessi autori degli esperimenti cercassero di tenerlo distante dall'allestimento dei progetti perché era proverbiale la sua incapacità a manovrare oggetti delicati. Immaginatevi il tubo cattodico che qua vedete fra l'altro alla sua sinistra. E allora vediamo in cosa consiste questo esperimento di Thompson. Allora questo è il tubo cattodico che vi ho disegnato in maniera schematica. Qui dentro c'è il vuoto, questo è il catodo e questo è l'anodo e qua i famosi raggi di cui parlavamo. Qua c'è lo schermo recettore evidentemente. Allora Thompson inizialmente ha quest'idea, una semplicissima idea. Prova a mettere un campo elettrico esterno al tubo per vedere se questi raggi vengono deviati. Perché fa questo esperimento? Perché i raggi X evidentemente sono raggi luminosi del campo elettromagnetico e quindi sono neutri di per sé, non dovrebbero subire nessuna deviazione. Ma invece quello che succede è che applicando un campo elettrico esterno questo raggio curva e la sua curvatura è anche calcolabile. Quindi la prima cosa che scopre Thompson è che questi raggi hanno una carica e che carica? Evidentemente una carica negativa perché come potete vedere anche dall'immagine il raggio curva verso l'alto cioè verso la carica positiva in questo caso. Da notare che ovviamente il campo elettrico messo da Thompson per far deviare quelli che poi si scoprirà essere gli elettroni è un campo elettrico perpendicolare all'anodo al catodo. A questo punto Thompson capisce che può fare un piccolo calcolo cioè può dire che sicuramente quello che ha fatto deviare queste cariche che a questo punto è sicuro essere delle cariche elettriche negative e quindi ipotizza che siano delle particelle evidentemente e poi vedremo come arriva a spiegarlo. Il campo elettrico dicevamo è calcolabile come Q per E dove Q è proprio la carica di queste particelle e il campo elettrico che Thompson aveva applicato all'esperimento. Ma siccome le cariche elettriche curvano appunto generano una curva questa curva immaginatevi che sia fatto così questa curva è un raggio di curvatura di un eventuale cerchio e quindi si può utilizzare la forza centripeta ovvero M per V quadro su R perché ricordiamo che l'accelerazione centripeta è proprio data da V quadro su R e in questo modo può uguagliare la forza elettrica alla forza centripeta e quindi scrivere che Q per E è uguale a M V quadro su R. Non può calcolare Q ed M ma il loro rapporto eventualmente potrebbe essere calcolabile dovrebbe essere uguale a V quadro fratto E su R. Allora R abbiamo detto il raggio di curvatura ed è misurabile e il campo elettrico applicato quindi evidentemente noto perché applicato da da Thomson stesso il problema è la velocità cioè stabilire la velocità di queste particelle è apparentemente impossibile ed è qui che Thomson ha il colpo di genio immaginatevi appunto che la situazione sia questa se anziché applicare un campo elettrico noi applicassimo pensa Thomson un campo magnetico cioè una calamita vera e propria un magnete con il suo polo nord polo sud quello che dovrebbe succedere a una carica elettrica negativa è curvare secondo a una carica elettrica in generale in questa occasione una carica elettrica negativa è curvare secondo la forza di Lorentz e infatti quello che succede al raggio è questa volta è una curvatura verso il basso si può tarare opportunamente il magnete in modo che la curvatura sia la stessa identica di quella del campo elettrico e allora semplicemente mettendo insieme le due cose quindi mettendo sia il campo elettrico sia il campo magnetico il nostro flusso di particelle dovrebbe andare dritto quindi se opportunamente tarate i due campi danno vita a un flusso continuo dritto a questo punto Thomson può fare un semplice calcolo la forza di di Lorentz di cui abbiamo parlato si trova moltiplicando la carica per il campo magnetico per la velocità per il seno dell'angolo θ ma siccome noi possiamo considerare che il campo magnetico sia stato messo a 90 gradi quindi con θ uguale 90 il seno di θ sarà uguale a 1 seno di 90 sarà uguale a 1 allora possiamo scrivere che la forza magnetica è uguale in questo caso a q per b per v ma questa forza se è eguagliata alla forza elettrica nella situazione appena descritta cioè in cui il flusso dei raggi va sempre dritto ci permette di scrivere che fe è uguale a q per e ovvero ci permette di eguagliare la forza elettrica e la forza magnetica e in questo modo possiamo scrivere che q per e è uguale a q per b per v q e q si semplificano e quello che succede è che la velocità formula inversa si può ricavare semplicemente dividendo l'intensità del campo elettrico dall'intensità del campo magnetico questa era la velocità che ci mancava nella formula precedente infatti l'unica incognita per trovare il rapporto tra q ed m era proprio la velocità quindi v uguale e fratto b da sostituire qui dentro ovviamente elevato al quadrato qual è il risultato di questo rapporto tra carica e massa il risultato q valore assoluto fratto m che viene a thomson è circa 1 per 10 alla 11 coulomb su kg in realtà i calcoli più accurati che poi si sono fatti in seguito hanno permesso di trovare un valore più preciso 1,76 per 10 alla 11 coulomb su kg però l'ordine di grandezza è stato rispettato non solo ma thomson ha anche un'altra intuizione cioè intuisce che la carica elettrica deve essere simile a quelle degli ioni idrogeno gli ioni idrogeno come poi si scoprì in seguito sono evidentemente composti solo da un protone comunque la loro carica elettrica è 10 all'ottava e dell'ordine 10 all'ottava coulomb su kg quindi facendo due calcoli e ipotizzando che a quello quello che cambia non sia la carica ma la massa questa è l'ipotesi che l'ultima ipotesi che fece thomson thomson intui che queste particelle quelle che poi chiameremo elettroni hanno una massa di circa mille volte da 10 all'ottava 10 all'undicesima di circa mille volte cioè 10 alla terza minore degli ioni idrogeno e di fatto questo è un risultato realistico nel senso che noi oggi sappiamo che gli elettroni in effetti sono circa mille volte più piccoli dei protoni questi calcoli verranno poi dimostrati con un altro esperimento da robert millican nel 1911 ma questa è un'altra storia